Diciamo che, cioè dirci che siamo allo stesso punto in cui eravamo dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa, quarant'anni fa, è secondo me una missificazione. Prego, 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 la battuta ancora sia di Claudia Gelini che di Guia Sognini. No, certo che il cammino è lunghissimo, molto lungo, perché dobbiamo poi eguagliare secoli e secoli invece di disuguaglianza, quindi l'uguaglianza, la dignità, diciamo l'empowerment socio-economico delle donne sta avvenendo in modo molto lento, ma inesorabile, certamente siamo migliorati, ma ancora tanta strada c'è da fare, iniziando proprio in casa, dalle mamme dei bambini maschi, dei ragazzini, che sono responsabilizzate e per prime devono insegnare loro tante cose, il rispetto e tante altre cose, quindi sono veramente il cammino, come dicevamo, è molto lungo, ma si sta attuando, certamente non siamo come il secolo scorso, né come vent'anni fa, però ecco, diciamo che la strada è in salita ed è ancora lunga, da percorrere. Allora facciamo così, siamo alla pubblicità, credo che Claudia Gerini debba lasciarci, quindi la saluto. Action Aid, ciao a tutti. Grazie, grazie per le tante cose importanti che fa Action Aid, grazie a Claudia Gerini.